Le storie delle metamorfosi di Casanova presentano l'amore come la motivazione più profonda dell'umanità, il seme della vita e il sorriso dell'esistenza, sentimento principe dell'animo umano, senza il quale la vita stessa sarebbe un tunnel buio. Prendendo come pretesto per le sue narrazioni la «gloria» di un personaggio noto per le sue avventure erotiche, Attila Balash fa dell'eclettica figura di Casanova simbolo del comportamento e delle esperienze erotiche e sentimentali di ogni lettore uomo. Casanova fa parte dell'immaginario collettivo del genere maschile, la gioia effimera eppure appagante della seduzione. L'amore si manifesta infatti in mille modi diversi, a mille diverse sfumature, non potrà mai essere definito totalmente dalle parole, è un sentimento sfuggente, fluido che inonda l'anima, tremore del corpo, esaltazione e pianto. Dalla prefazione di Laura Garavaglia